Alla Biosimolanti Conference abbiamo presentato un prodotto che si chiama Invalot White Protect, che è un prodotto a base di talco estratto da viniere francesi, che è distribuito sulla vegetazione e presenta appunto questa duplice attitudine. La primaria è quella sulla protezione, perché riducendo la quantità di acqua sui tessuti ha un effetto antifungino molto evidente ed evita anche che i funili possano distribuirsi e possono incrementarsi sulla pianta. E poi anche un effetto insettifugo, perché gli insetti non riconoscono più la pianta come pianta, perché il talco appunto li confonde ed evitano appunto che l'attaccata. Ma l'effetto principale, che è quello per cui oggi qui ne ho parlato, è l'effetto come biostimolante, perché riducendo la temperatura a livello fogliare o a livello di frutti riduce tutti quei fenomeni di sunburn o di scottatura di frutti che vanno a depreciare il prodotto una volta portati al mercato. La strategia di Compo Expert per il prossimo futuro è quella di incrementare i portafogli di prodotti con prodotti che hanno questa duplice attitudine, protezione e biostimolazione, e di portare sul mercato dei nuovi biostimolanti che presentano delle caratteristiche innovative rispetto a quelli finora visti in commercio e quindi con delle performance ancora migliorate.